All'interno del Family Act in particolare la legge di bilancio prevede nella Nadef un collegato alla legge di bilancio che andrà a normare un sostegno economico alle famiglie mensile erogato per ciascun figlio dalla nascita fino all'età adulta. Questo sarà un assegno che non semplicemente è volto a organizzare tutte le misure oggi a sostegno delle famiglie ma vuole essere un riconoscimento di un carattere di bene comune dell'esperienza della maternità e della paternità e quindi dei bambini in se stessi, quindi un diritto che va riconosciuto ai bambini, a tutti i bambini del nostro paese ovviamente in modo commisurato in base al contesto in cui si trovano.